Nel weekend c'è stata un'ordinanza del sindaco sull'acqua inquinata in una zona del territorio comunale. Possiamo spiegare meglio anche perché su internet molti hanno fatto confusione? Sì, abbiamo ribadito con una nota inviata proprio perché c'era pervenuta questa preoccupazione da parte della cittadinanza. In città l'acqua è assolutamente potabile, non ci sono problemi. Da parte dell'ASP c'era stato segnalato un aumento della torbidità soltanto in una zona ben precisa che è la zona industriale. Quindi soltanto per quell'area vige questa ordinanza che vieta l'uso per scopi alimentari, ma soltanto nell'area della zona industriale. Gli altri possono stare tranquilli? Assolutamente sì, nel resto della città l'acqua è assolutamente normale e potabile. In questi casi è sempre importante dare comunicazione perché tra i cittadini con i social network, con internet, spesso molti anche lanciano queste notizie. Sì esatto, è importante, infatti ribadisco abbiamo voluto chiarire ulteriormente proprio perché c'era stato un allarmismo che non è assolutamente giustificato.